Si abbassa il passaggio a livello. Il passaggio a livello chiuso verso San Giano centro paese. Il passaggio a livello chiuso. Siamo a San Giano al passaggio a livello sulla linea Novara-Laveno. Verso Novara. Verso Laveno. È lunedì, siamo a gennaio. Verso San Giano centro paese. È lunedì, siamo a gennaio. Il passaggio a livello chiuso verso Laveno verso Novara. È lunedì, siamo a gennaio. Verso Luino. 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 E' lunedì, siamo a gennaio. Siamo a San Giano, al passaggio a livello sulla linea Novara-Laveno. Da gennaio del 2014, la tratta Novara-Laveno è chiusa al servizio viaggiatori. Grazie. Grazie. Vibra il binario. Grazie. 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 Grazie a tutti. È lunedì. Siamo a gennaio, ore 13.59. Il passaggio a livello di San Giano sulla linea Novara-Laveno. 32 chilometri da Oleggio, origine della ferrovia, verso Novara, verso Laveno. Verso San Giano, centro paese. Il passaggio a livello di San Giano sulla linea Novara-Laveno.